Con gli altri, un po' da solo, eccolo qua, o saldo, o a tra l'altro, non si nasconde, anche se non ti preghi insulti dei tifosi o a chi li chiede il mio futuro, lui oggi l'ha detto, anche lo chiede dal mio futuro. Non ha niente, sei capace di creare una conversazione.